Con un calo complessivo dei consumi dell'11,7%, pari ad oltre 126 miliardi di euro, il 2020 ha registrato il peggior dato dal secondo dopoguerra, un dato su cui pesa la riduzione del 60,4% della spesa dei turisti stranieri, pari ad una perdita di circa 27 miliardi, di cui 23 concentrati prevalentemente nelle regioni del centro-nord, con Lazio e Toscana in testa. E' quanto emerge dal rapporto di Confcommercio sui consumi 2019-2021 e nel quale si sottolinea che il crollo della domanda ha comportato mediamente una perdita di oltre 2 mila euro a testa rispetto al 2019, riportando i consumi ai livelli del 1995. Per il 2021 Confcommercio prevede una crescita dei consumi interni del 3,8%, avvertendo però che le previsioni restano molto caute, soprattutto per le incognite sulla ripartenza del turismo internazionale, con la conseguenza che in valore assoluto la spesa pro capite mediamente non riuscirà a recuperare nemmeno un terzo di quanto perso durante la pandemia.